Un uomo di 35 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue ad Angri, in provincia di Salerno. Il corpo di MC, queste le sue iniziali, era sul marciapiede in via Risi. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto scientifico del comando di nocera inferiore, che hanno sequestrato il cadavere ed effettuato i primi rilievi. I militari seguono la pista dell'omicidio, da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da vari fendenti. Una delle ipotesi considerate dai militari è che l'aggressione possa essere avvenuta al culmine di una lite scoppiata nei locali della Movida. Sono in corso accertamenti da parte dei militari, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese e sotto il coordinamento della procura di nocera inferiore. Grazie a tutti!